Quando un genitore si ammala di una malattia oncologica, tutte le certezze che sostengono e supportano il percorso di crescita di un figlio improvvisamente possono crollare. L'immagine che ci costruiamo dei genitori è quella di supereroi immortali il cui compito è solo quello di proteggere e difendere i figli dalle sofferenze del mondo. Quando una malattia oncologica entra in una famiglia, quell'immagine viene distrutta e i figli si ritrovano chiamati a rispondere a una delle paure più grandi e temibili, la sofferenza e la vulnerabilità dei propri genitori. È del tutto normale a un certo punto per un ragazzo ritrovarsi smarrito e intrappolato tra il desiderio di andare alla ricerca di sé e la responsabilità di doversi prendere cura dei propri genitori e scegliere che cosa fare in base alle proprie possibilità, in base alla propria età e cosa invece è necessario lasciare andare non è facile. Per queste ragioni l'ambulatorio AIL Milano dedica uno spazio anche per i figli dei pazienti oncoematologici.